vi mostro l'anello da vicino del tutorial che farò la gemma incastonata in una gabbia di svarocchi ora vi faccio vedere l'anello da vicino ecco qui vi dico subito il materiale che vi occorre becano svarocchi millimetri 4 80 pezzi circa io vi dico sempre in più perché non solo la dimensione che scegliete della vostra gemma se la volete grande o piccola quindi vi dico sempre svarocchi in più rocaille 0 11 filo 0 25 circa un metro perché ci servirà anche per il fascione io faccio con un solo sito tutta la lavorazione e niente spero che vi piace per me un bellissimo effetto un bellissimo anello poi con lo svarocchi la gemma ha più valore secondo me viene proprio messa più evidente a tutto il prezzo coltodoria grazie a tutti